ciao andrea sono patrizio sono a praga ti seguo da tanti anni mi farebbe piacere se nel caso tu riuscissi ad incontrarti qui a praga decidite dove io parto domenica alle 18 e spero che tu già mi conosca perché un canale twitch abbastanza seguito se nel caso non mi conoscessi puoi mettere su twitch patrizio official a me e alla mia community mi farebbe tanto piacere vederti aspetto una tua risposta buonanotte grazie a tutti